Ciao ragazzi, come va? In questo video parliamo un po' di Webpack. Che cos'è Webpack? Webpack insieme ad esempio a Parcel e ad altri sono dei module bundler. Ma in realtà che cosa sono e che cosa ci permettono di fare? Quando noi sviluppiamo un'applicazione, utilizziamo una serie di strumenti. Ad esempio sviluppiamo l'applicazione con le nuove funzionalità di JavaScript, che sono funzionalità recenti, magari non compatibili con browser vecchi. Quindi se noi vogliamo lavorare con uno sguardo alla compatibilità, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere quel codice JavaScript che abbiamo scritto con le nuove funzionalità moderne, diciamo, del linguaggio e dobbiamo trasformare il codice, si dice dobbiamo transpilare il codice, in codice equivalente ma che sia compatibile anche con browser vecchi. Oppure vogliamo sviluppare il nostro codice CSS lavorando con il preprocessore SAS. Non possiamo caricare online i file SAS e farli leggere, farli interpretare al browser. Il browser può leggere file CSS e codice CSS. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo compilare, dobbiamo convertire il nostro codice SAS in codice CSS e anche quell'operazione dobbiamo farla attraverso un apposito strumento. Oppure vogliamo prendere la nostra applicazione modularizzata, ad esempio sviluppiamo con i moduli JavaScript e vogliamo impacchettare il codice JavaScript all'interno di un singolo file JavaScript. Anche in questo caso avremmo bisogno di un altro strumento per realizzare questo compito. Quindi quello che fanno Parcel, Webpack e così via è automatizzare queste operazioni. Quindi noi ad esempio andiamo a sviluppare con codice SAS, vogliamo che in automatico quando passiamo da una fase di sviluppo ad una fase di produzione vi sia in automatico il passaggio del codice SAS in codice CSS. Stessa cosa per quanto riguarda la traspirazione del codice JavaScript e così via. Queste automazioni possiamo farle senza problemi con Webpack. Webpack è uno strumento che mette un po' di timore, sembra molto complesso ma in realtà non lo è poi così tanto. Quando iniziamo a lavorare con Webpack dobbiamo fare delle operazioni iniziali. Dobbiamo inizializzare il nostro progetto con npm. Per farlo digitiamo npm init-y. Quello che facciamo con questo comando è creare un file package.json. Qui all'interno abbiamo una serie di informazioni sul pacchetto o sul progetto che andiamo a sviluppare. Verranno memorizzate le dipendenze di sviluppo e di produzione e così via. Perfetto, ma apriamo VS Code. Apro il terminale integrato. Ora, se vogliamo iniziare a lavorare con Webpack dobbiamo installare con npm, quindi facciamo npm install oppure facciamo soltanto i. Installiamo la dipendenza Webpack e Webpack trattino CLI CLI. Per quale motivo? Poi vedremo. Perfetto, facciamo invio. Perfetto, abbiamo installato Webpack e Webpack CLI come dipendenze di sviluppo. In realtà non ho fatto meno meno save dev, quindi scusate, faccio npm un webpack e webpack trattino CLI. E dobbiamo fare npm, webpack, webpack CLI, ma dobbiamo salvare queste dipendenze come dipendenze di sviluppo. Facciamo meno meno save dev oppure facciamo meno di. Perfetto, faccio invio. Perfetto, vediamo che adesso le dipendenze sono all'interno della proprietà devdependency, quindi sono dipendenze necessarie soltanto in fase di sviluppo, non in fase di produzione. Perfetto, ma come facciamo a lavorare con Webpack? Webpack dovremmo creare un file di configurazione, anche se in realtà per quanto riguarda Webpack versione 4 e versione 5 potremmo anche non indicare nessun file di configurazione. Ma nella realtà delle cose, nel 99% dei casi, dobbiamo definire il nostro file di configurazione Webpack. Questo perché il file di configurazione Webpack ci permette di avere un controllo granulare su quello che succede nel passaggio dalla fase di sviluppo alla fase di produzione. Quindi andiamo a controllare come il nostro codice sorgente viene trasformato nel codice che sarà pronto per essere inviato online, essere caricato online. Quando noi siamo in fase di studio, andiamo a creare il nostro file di configurazione Webpack, che è webpack.config.gs. Quindi andremo a creare il nostro file di configurazione, in questo modo. E qui all'interno. Siamo all'interno di un normale modulo node, quindi facciamo module.export. Esportiamo un oggetto. All'interno di questo oggetto andiamo a impostare, a definire tutte le configurazioni che vogliamo. Perfetto, ma posso cancellare questo file. Perché creeremo questo file in un modo diverso. Quindi quando siamo in fase di studio andiamo a creare il nostro file da zero, quindi creiamo pezzo o pezzo il nostro file di configurazione. Ma quando noi già conosciamo questo strumento, quindi non è necessario che dobbiamo riscrivere ogni volta tutta la configurazione di Webpack per quanto riguarda il nostro progetto, possiamo utilizzare degli strumenti che ci velocizzano il lavoro. Per quale motivo andiamo a installare questo Webpack CLI? Proprio per questo motivo, perché questo strumento, questo pacchetto, ci fornisce una serie di strumenti a linee di comando che ci permettono di lavorare in modo più veloce con Webpack. Ad esempio, se digitiamo, pulisco il terminale, se digitiamo npx webpack init, potremmo anche indicare meno meno force oppure meno f per evitare di rispondere a tutta una serie di domande, ma non mettiamo meno f e facciamo invio, quindi facciamo npx webpack init, invio. Ora leggiamo che ci verrà installato questo pacchetto, facciamo y e invio. Abbiamo alcune vulnerabilità da risolvere con npm audit fix, ma in questo momento non preoccupiamoci, andiamo avanti. Ora dobbiamo rispondere ad una serie di domande, al fine che il nostro file di configurazione Webpack possa essere creato in modo appropriato. Ad esempio, quale soluzione JavaScript vogliamo utilizzare? Nessuna S6 TypeScript, utilizziamo S6, invio. Vogliamo utilizzare Webpack DevServer? Sì, lo vogliamo utilizzare. Ci serve. Vogliamo semplificare la creazione dei file HTML? Sì. Ovviamente rispondiamo in base alle esigenze del progetto. Vogliamo aggiungere supporto per le Progressive Web App? No. E così via. Facciamo SAS. Y invio. No invio. No. Vogliamo installare Prettier? Diciamo di sì. Abbiamo un conflitto per quanto riguarda il file package.json. Vogliamo sovrascrivere questo file? Sì. E invio. Perfetto. Leggiamo che il progetto è stato inizializzato con Webpack. Abbiamo la scritta in verde. Diciamo che tutto è andato bene. Abbiamo qualche vulnerabilità che possiamo risolvere con npm audit fix oppure con npm audit fix meno meno forse. Vediamo che qui sulla sinistra ora abbiamo tutta una serie di file che prima non c'erano. Abbiamo ad esempio una cartella src. Abbiamo il file di configurazione Babel. Babel.rc. Abbiamo un file index.html che sarà preso come file HTML template. E' stato aggiornato il file package.json. Vediamo che abbiamo adesso tutta una serie di script che possiamo sfruttare. Se vogliamo effettuare la build in modalità produzione oppure in modalità sviluppo. Abbiamo lo script watch per monitorare i cambiamenti che avvengono all'interno dei file. serve che lancerà il comando webpack serve per lanciare una server di sviluppo. E se andiamo in basso per quanto riguarda le dipendenze di sviluppo vediamo che abbiamo tutte queste dipendenze. Sono dipendenze necessarie affinché Webpack faccia il suo lavoro. Perfetto. Se andiamo adesso in webpack.config.js. Chiudo il terminale. Vediamo che c'è stato già creato il file webpack.config.js con tutte le configurazioni necessarie. Ovviamente se vogliamo apportare delle modifiche a questo file possiamo farlo. Però già abbiamo una buona base da cui partire. Quindi non dobbiamo scrivere tutto da zero. Ma possiamo semplicemente modificare questo file dove necessario. Che cosa fa questo file? Importa il modulo nativo path di node. Importa questo plugin per generare file html. Valuta se webpack deve lavorare per una fase di sviluppo oppure di produzione. Analizzando il contenuto della variabile d'ambiente node underscore env. E poi qui abbiamo il nostro oggetto di configurazione. Abbiamo la proprietà entry che rappresenta l'entry point da cui webpack andrà a creare il suo grafo delle dipendenze. La proprietà output. Quindi dove deve inserire i file finali da caricare online all'interno della cartella dist. Definisce la proprietà devserver con un oggetto con una serie di proprietà. E qui abbiamo poi i plugin e i loaders. Per quanto riguarda i plugin abbiamo un array. Va a creare un'istanza di html webpack plugin. Passando come oggetto di operazione un oggetto con una proprietà template con valore index.html. Quindi questo file index.html sarà il template per creare il file index.html che andrà all'interno della cartella dist. E qui abbiamo i nostri loader. Abbiamo la proprietà rule che è un array di oggetti. Che cosa dice quell'interno? In pratica effetto a dei test. Questo file di configurazione dice a webpack quando incontri dei file che terminano in js oppure jsx effettua delle trasformazioni con questo loader. Quando incontri i file css effettua delle trasformazioni con questi loader. Quando incontri un file s css oppure sass effettua queste trasformazioni e così via. E infine esporta l'oggetto di configurazione. Ma prima di farlo controlla se deve lavorare come fase di sviluppo oppure come fase di produzione. E aggiunge infatti la proprietà mode, production oppure development. E infine ritorna l'oggetto config. Per chi non conosce webpack certamente tutto questo può spaventare. Ma in realtà le cose non sono poi così difficili come sembrano. Tra qualche giorno pubblicherò un'intera sezione di webpack su uno dei miei corsi Udemy. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se utilizzate già questo strumento o magari avreste voluto utilizzarlo ma vi risulta un po' troppo difficile. E se magari è il caso di fare una serie di video su come lavorare con webpack ma partendo da zero.